Era il tardo pomeriggio di ieri quando nelle campagne di Bulala a Gela un incendio è divampato danneggiando i capannoni di una ditta alla termine imballaggi. Immediato e determinante l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme per ore. Pare che all'interno del capannone vi fosse materiale altamente infiammabile. Presenti gli addetti alla sorveglianza dipendenti della ditta proprietaria. A rimanere sotto shock un cinquantenne, l'uomo una volta al pronto soccorso del Vittorio Emanuele è stato assistito dai medici. Ora bisognerà attendere che la struttura possa essere ritenuta nuovamente agibile per le verifiche che aiuteranno a capire le cause e le dinamiche dell'incendio.